Sì, è vero. Oggi, presto, non introdurca. Ma, signora Ministra, non è il caso, forse. Ma non introdurca, si sbrighi, mi sono ben ritardo. Almeno lo tirai fuori, scusi. Ma lo tirai fuori. Se lo vuole introdurre, lo deve prima tirare fuori, sennò come fa a introdurlo? Il discorso, però, il discorso. Allora, il discorso, coccane, l'ho lasciato di nuovo e me lo ricordo come pianemora. Allora, siamo qui per commentare i risultati elettorali con... ... ... ... Buonasera. Come sapete, nelle recenti lezioni, io mi ero presentata con un mio simbolo. Con un mio simbolo. Troppo il simbolo! 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 ma ce l'ha dritto ma come ce l'ha dritto ma il simbolo l'ha messo dritto? l'ha messo dritto Prostino ecco così ma cosa? ma chiudina qua dietro ce l'ho messo dovrebbe essere sempre giudito il mio simbolo insomma io mi ero presentata con questo simbolo perché mi avevano promesso che me lo avrebbero appoggiato su e me lo volevano appoggiare a destra e me lo volevano appoggiare a sinistra ma io me lo sono fatto appoggiare solo al centro sì sì perché io sono una moderata vero Prosti che sono una moderata? e il mio motto qua? Prosti? qual è il mio motto? il mio motto mai? più? più? di? di? tre? nha? tre? nha? mai più di tre alla volta e che cosa Prosti? lo dica mai più di tre di tre ca? mai più di tre ca? mai più di tre di tre in ca? di tre in ca? di tre in carichi? di carichi mai più di tre in carichi alla volta sì e pensare che il mio sogno è sempre stato il pirellone lo sognavo la notte questo pirellone che andavo su e giù su e giù su e giù con il pirellone ma io sono una persona umile mica volevo cominciare subito dei piani alti no e avrei cominciato dalla base del pirellone e poi salire su e poi il pirellone del pirellone fino alla tutta del pirellone e a lei piace il pirellone però schifo nel senso del deparato della regione nini nini non vi taglio del venetato comunque come avete visto su tutti i giornali il vento è cambiato ed io sono stata trombata Ma vi sentite conto una come un bello sommato, ma chi l'avrebbe mai detto? Pronti, lei l'avrebbe mai detto che mi avrebbero sommato? E stai pronti, mi tromperai. Ma in che senso le lezioni come le mie... Mi guardi con quello sguardo e mi fa sentire sporca. Pronti, lei ha un maiale, non lo sto tenendo niente. Maiale, Pronti, faccio il maiale. Faccio il maiale, faccio il maiale! Dai, cazzo, corso! Più forte, Pronti! Ma che schifo, non è l'appunto! Allora, come lo può fare, Pronti! Ci sono domande? Pronti, dai, da chi ce la farebbe fare? Cosa? Cosa, Pronti? Non so, se la vuoi fare da solo, per caso, eh? Ma chi ce la farebbe fare? Ma cosa, eh? La domanda, Pronti! La domanda? Oh, non lo so, io non la farei fare da... da quello là. Perfetto! Dica! Martino Ferro, il Corriere di Scandicci. Onorevole, si può sapere come ha fatto una come lei a entrare in politica? Ma c'è, non c'è problema, è appunto tutto, non c'è... Ma Pronti, che cazzo vuole lei, eh? Io racconto quello che mi pare! Signora Ciccola, è un po' di... Ma aspetta che stimolo, imbecile! Ve lo dico subito. Il Corriere di Scandicci Il Corriere di Scandicci Su e giù, su e giù, su e giù, nei soldati elettorali. C'è l'occo giornalista in gioccio il corpo, parare che non ho visto per i porti e non gioca, non va un'epoca, lì le linea, sempre non faccia, è un colino in hier, un colino in faccia. Io ho visto l'altra papà, mi spalla nessuno e non mi sono mai llegata La marcia del sud e senti solo coltata, mi sono mai llegata Solo quella volta che mi ha intaccettato E allora soca, 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 soca di amore Su e tu, su e tu, su e tu, su e tu, nei soldatini esporali Succa, suca, 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 soca di amore Su e tu, su e tu, su e tu, nei soldatini esporali Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.